Superlega di volley, la sera infatti giocherà questa sera alle 20.30 contro il Molfetta con Palapoli già totalmente esaurito. Allora Elena Balarani sul volley. Secondo me dobbiamo rivedere un po' quello che è la nostra apprezzazione, fare tesoro di questa sconfitta e poi vedere di giocare bene intanto con Molfetta che è la prossima partita perché anche Molfetta sono cattivi. Fare tesoro della sconfitta imparando dagli errori e prendendo esempio da una squadra forte come si è dimostrata la capolista al palevangelisti. Con queste parole il presidente Gino Sirci al termine della gara di domenica descrive quale può essere la chiave giusta per affrontare le prossime gare. Stasera c'è Molfetta, una formazione che tra le muramiche si è dimostrata avversario temibile. Il Palapoli è un impianto molto piccolo e è andato subito sold out come ormai succede sempre quando la Sir si sposta nei vari impianti italiani. Per la trasferta in Puglia questa volta sono partiti tutti e 14 Block Devils. Rosa al completo dunque per Lorenzo Bernardi che dovrebbe optare per la conferma della formazione tipo con De Cetco in regia, Atanasievic opposto, Birarelli e Podrashkan in centrali, Russell e Zaysev, Martelli ricevitori, Bari e Tosi coppia di liberi. Di fronte ai Block Devils un ex privia Molfetta attualmente al decimo posto a quattro lunghezze dall'ottava posizione di Vibo e dunque in piena lotta per entrare nelle magnifiche otto che si contenderanno lo scudetto nei play-off. Attenzione puntata su Giulio Sabbi, miglior bomber della Superlega per distacco con 472 punti, pericolosissimo al servizio.